Ciao a tutti, oggi vi parlo di un dolce sardo che si fa proprio nel periodo del carnevale, gli acciuletti galluresi. L'impasto è facilissimo perché sono semplicemente uova, strutto, farina, zucchero e scorza di agrumi. Quello che però è importante è la manualità nel prepararli. Dall'impasto dovete ricavare dei pezzettini e poi lavorarli fino a ottenere dei cordoncini sottili. Mi raccomando, intendo veramente sottili perché poi gli acciuletti in cottura gonfiano e gonfiano parecchio e se i cordoncini non sono sottili vi verranno un po' rozzi, non delicati, come dei piccoli gioielli che è quello che dovete ottenere. Quando avrete i vostri cordoncini sottili e sottili dovete semplicemente doppiarli, ecco così come vedete, e arrotolarli su se stessi tenendo una parte ferma e girando l'altra. Poi sollevate questa specie di spirale e vedrete che da sola praticamente si ha torciglia su se stessa. Non è difficile da fare, ci vuole però un po' di pazienza proprio per tirare la pasta davvero sottile. Vi renderete conto che l'impasto e anche la consistenza non sono dissimili dagli struffoli. Di fatto si tratta comunque di un dolce povero con lo strutto nell'impasto che viene fritto e poi cosparso con miele e in questo caso scorse di arancia candite. Come vedete gli acciuletti, se fatti bene, sembrano quasi una filigrana sarda. Guardate. Gli acciuletti vanno fritti in olio di semi di arachide o di girasole altoleico a 170 gradi, quindi scolati e poi conditi con del miele che viene scaldato in padella con scorze di agrumi e scorzette di arancia candite. Una volta che il miele sarà caldo ma non deve bollire, tuffate gli acciuletti, pochi per volta perché potrebbero spezzarsi, e mescolateli con il miele finché non ne saranno ricoperti. Infine sistemate gli acciuletti nel piatto da portata e aggiungete al miele che è avanzato delle scorzette di arancia candite tagliate sottili sottili. Una volta che le arance saranno ricoperte dal miele versate tutto il composto sui acciuletti per renderli ancora più buoni, più ricchi e più profumati. Vi consiglio di farli raffreddare e aspettare almeno un paio d'ore prima di gustarli. Sono buonissimi, durano a lungo e così festeggiate il carnevale in maniera un po' diversa dai soliti struffoli o dalle chiacchiere, anche se la tradizione italiana è tutta bella a carnevale, i dolci fritti sono una meraviglia. Come sempre trovate le dosi precise e tutti gli ingredienti sul mio sito siciliani creativi. Buona giornata!